Quanto dico che prendo i psicofarmaci, li prendo a seconda prescrizione medica, mica a casaccio. Anche con le sigarette cerco di limitarmi venendo qui a strimpellare. Già che ci sono strimpellerò qualcosa e canterò pure una canzone di Muse. Naturalmente in inglese non lo so, quindi me lo invento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.